Leo Marongio è candidato per il centro-sinistra, candidato a sindaco nella città di Lanciano, impegnato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, l'ultima seduta ordinaria di questa consigliatura. All'inizio eravate in tre nel centro-sinistra, c'era anche Giacinto Verna, attuale vice-sindaco, Edora Bendotti, assessore alle politiche sociali, ma poi c'è stata subito l'intesa sul suo nome. Quando hai un'idea di futuro per la città è facile trovare l'intesa, un'intesa che abbiamo trovato subito e questo ci ha dato la possibilità di entrare in campo in città dall'inizio regalando idee e soprattutto regalando speranze con una squadra unita, una squadra unita, una squadra giovane, una squadra che vuole lanciare un messaggio generazionale forte per questa città. La sua campagna elettorale come si pone all'insegna la continuità? Noi andiamo a lavorare per il futuro, anche per offrire un progetto di cambiamento per la città. Perché cambiamento? Perché il Covid ha travolto tutte le concezioni del passato e noi dobbiamo costruire la città del 2031 una città moderna, vivibile, puntando sulla qualità della vita. Una città che sarà completamente diversa dalla città che vediamo oggi. Ecco perché abbiamo bisogno di parlare di futuro e non di ricette del passato. Cosa si sente di dire anche agli avversari in questa campagna elettorale? E' straordinario come a Ferragosto siano scomparse tutte le liti, siano scomparsi tutti i contrasti. Quello che è nato come polo civico si trasforma in polo cinico che va a riproporre una ricetta del 2001. La campagna elettorale verterà su questo. Lanciano 2031 contro Lanciano del 2001. Lanciano che vuole regalare sogni e speranze a figlio o nipoti o la Lanciano invece che rimane arroccata su un passato che non è stato certamente edificante.